il credo cooperativo lo conoscevo tramite mia moglie perché lei era già cliente e allora mi ha proposto di entrare in bcc siamo entrati prima con piccoli progetti perché la prima cosa che sono andato a chiedere per la macchina che abbiamo comprato insieme nel 2001 poi quando abbiamo visto che le cose andavano abbastanza bene sia col lavoro che io e lei col lavoro la cosa che abbiamo fatto insieme io e mia moglie nel 2004 abbiamo deciso di comprare casa siamo andati al credito cooperativo chiedendo il mutuo perché purtroppo sia da una parte che dall'altra non ci potevano dare una mano i genitori e il credito cooperativo ce l'ha dato e siamo riusciti a comprare la casa dove adesso abitiamo tutti insieme tuttora da 11 anni quasi 12 ci ha dato quella mano che non ci poteva dare che non ci potevano dare nostre famiglie grazie al credito cooperativo quest'anno abbiamo deciso di allargare l'attività comprando capannone nuovo dove poter svolgere al meglio quello che facciamo mi hanno accolto a braccia aperte a livello lavorativo realizzando un altro progetto che avevo in mente che avevamo in mente lì si era forzato ancora di più visto che doveva comprare il capannone noi due abbiamo tenuto da parte 50 euro tutte e due per dopo darglieli le prime pratiche sono state portate avanti un piccolo dono da parte di figli quindi per quello anche che tante volte dico facciamo abbiamo invece di dirlo faccio perché intanto noi facciamo tutti insieme mai vent'anni che facciamo tutti insieme noi appena sono nati di tutte e due abbiamo pensato di aprire il piccolo libretto di risparmio a tutte e due dove versiamo ogni tanto qualche cosina che possono arrivare anche dai nonni per i compleanni piuttosto che a natale diciamo dagli zii o quando non porta a babbo natale i regali ecco la bcc ci sostiene per i nostri progetti presenti e futuri